Come ti chiami? Ho Luca Iacobucci Il tuo anno di nascita? Sì, 71 In quale città vivi? Ho Brindisi, ma sono originario di Rimini Sei fidanzato? Sono divorziato, ho due bambini e ho una compagna Descrivi il tuo carattere? Persona sensibile, ma anche forte e decisa Il tuo miglior pregio e il tuo peggior difetto? Di essere una persona abbastanza buona, perché sono molto cociuto Quali sono le tue fobie? Dall'altezza e una è l'arachnofobia Di cosa ti occupi? Di fitness, ho una palestra da circa 10 anni Faccio personal trainer da 20 anni Seguo anche agonisti Che sport pratichi? Bodybuilding, ho vinto due mondiali Uno nel 2006 in Repubblica Ceca E l'altro nel 2007 in Spagna Tu sarai il protagonista più seguito del pubblico, perché? Far vedere tecniche allenanti, come si deve mangiare Il fitness in genere Fai un appello al pubblico perché ti voti Il mio caratterino